Más allá de las ceramicas Attraverso il progetto Museo e Comunità ho avuto l'opportunità di conoscere il Museo Nazionale del Bargello e inoltre di associare alcune opere a esperienze personali e alla mia cultura di origine. Quando abbiamo fatto la nostra prima visita, abbiamo osservato le sale del Museo per identificare quelle opere che colpivano la nostra attenzione. Sono stata affascinata dalla Sala delle Maioliche, non solo per la bellezza delle opere, ma per la sorpresa che oggetti di uso quotidiano come vasi, piatti e recipienti siano esposti in un museo come opere di arte. Quando sono entrata in questa stanza, mi sono sentita in Colombia, il mio paese di origine. In Colombia c'è una piccola città dove le persone sono impegnate nella produzione di ceramica, creando pezzi molto simili a quelli in questa stanza. La città si chiama Rakira ed è uno dei miei posti preferiti al mondo. Le sue strade sono decorati con ceramiche fatte da artigliani della città. Questa tradizione è stata ereditata dalla popolazione indigena di Muisca, che viveva lì centinaia di anni fa. Questo progetto mi ha insegnato che l'arte è una forma universale di comunicazione e che alcune opere possono essere collegate a diverse culture e realtà personali. Grazie. 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 Grazie.